Termine di premia un anno e sette mesi dopo la chiusura, chiaramente dovuta per il Covid, però si riparte, si riparte con grande iniziativa, grandi lavori che sono totalmente in corso con la prospettiva di riuscire ad aprire per fine anno. Un lavoro di miglioramento non indifferente che state facendo? Un lavoro non indifferente, abbiamo rifatto completamente tutte le piscine esterne, abbiamo rifatto tutte le pavimentazioni e i teli delle piscine interne, abbiamo rifatto un restauro incompleto del centro benessere e abbiamo messo a norma anche tutte le stesse piscine. Inoltre anche negli spogliatoi con le norme Covid stiamo adeguando tutti gli spogliatoi. Investimenti economici non indifferenti? Investimenti economici siamo intorno al 1.400.000 euro, di cui 300.000 euro li mette il comune di premia, 1.100.000 li mette la società. Vedo comunque che al di là del fatto che siamo stati fermi per questo periodo c'è entusiasmo, c'è voglia di ripartire anche da parte vostra e da parte delle persone che lavorano qua. C'è voglia di ripartire perché come ha detto lei è dal 7 marzo 2020 che siamo chiusi, i dipendenti che sono 17 più quelli che vengono in estate, arriviamo a 25, hanno voglia di ripartire, ora sono tutti in cassa integrazione, per il primo anno abbiamo anticipato noi come azienda la cassa integrazione, adesso non vediamo l'ora di finire i lavori per ripartire anche perché da parte della clientela c'è un continuo tantamper che ci chiedono di tornare le terme di premia. Sulle terme, numeri che si rispettano, oltre 110.000 clienti annui non sono poca cosa? No, assolutamente, era un trend in costante crescita e consolidato, per cui eravamo, e vogliamo tornare a essere quello che eravamo, quindi un'azienda che si collocava tra le più importanti a livello turistico e nella provincia e anche garantire e continuare a dare la qualità dei servizi riconosciuta dai clienti alta e professionale. Quindi possiamo guardare al futuro con più fiducia? Vogliamo e dobbiamo, assolutamente sì.